Cato verde, solo verde, dai Catanzaro! Enzo Stroscio, Globus Television, Cristiano, prima di mettere da parte la partita della Paganese e archiviarla, volevo dirti che il Catania ha fatto il suo gioco su un campo pesante, però si è disposto bene in campo, la palla non ha rimbalzato all'altezza del petto, per cui si è potuto giocare a pallone come sa fare il Catania, e ha avuto un buon gioco di centrocampo che per me è l'elemento notale importante per permettere ai due schieramenti che tu sceglierai di volta in volta di poter essere sempre presente. Che spunti hai preso da queste partite? Considerando che la Paganese le sue azioni le ha fatte, quindi non era una squadra cuscinetto, ma si ha fatto la sua partita, ma il Catania ha dato molto di più. Che cos'hai tratto dal campo? Probabilmente il Catania ha fatto valere quello che magari sappiamo che non tutti possono avere, cioè poter fare una rotazione a 360 gradi coinvolgendo tutti i giocatori. Probabilmente per la Paganese è stata la terza partita con gli stessi giocatori nell'arco di una settimana. Noi abbiamo avuto la possibilità di cambiare qualcosa, di cercare, come vi avevo detto prima della settimana, di arrivare a far fare due partite ad ogni calciatore. Questo secondo me ci ha agevolato, come secondo me sembra strano, ma il campo allentato ha evitato quei rimbarsi soliti della palla che ultimamente nel nostro campo non perfetto ci accadeva. In questo devo ringraziare anche tutti gli addetti alla manutenzione del campo che domenica prima della partita si sono messi lì a togliere tutta l'acqua perché prima che arrivassimo noi era dalla mattina che lavoravano per cercare di darci un campo praticabile. Quindi va anche il nostro ringraziamento a loro. Sicuramente, come ho detto prima, io credo che le fortune di una squadra passano attraverso, come dico io ai giocatori, il restare tutti in 30 metri. Secondo me la cosa bella di domenica era che la squadra da Curiale, che era la punta più alta, ai due difensori centrali eravamo con 11 giocatori in 30 metri. Questo vuol dire dare la possibilità ai portatori di palla di avere la giocata più facile, c'era anche uno smarcamento fatto nella maniera giusta, davamo sempre due o tre soluzioni di passaggio al nostro portatore di palla e soprattutto abbiamo aggredito bene gli spazi, soprattutto con Barisic, con Califa, con le mezze ali, Mazzarani ha aggredito lo spazio e ha fatto un bellissimo gol. A dimostrazione che quando ci si muove, quando ci si fa vedere, quando diamo segnali che la vogliamo, la palla, diventa tutto più facile. Per tutti, anche per i difensori centrali, molte delle nostre azioni che poi abbiamo concretizzato in gol o altre che magari abbiamo preso due pali, c'è stato un salvataggio sulla linea su Califa. Insomma, è chiaro che quando diventa così, quando la squadra si muove con questa armonia e ripeto, quando si partecipa con tutti gli effettivi sia alla fase di non possesso che di possesso, penso che diventa più difficile per gli altri fermarci e più facile per noi cercare di fare la partita, di dominare la partita e di tenere l'ampugno. Cristiano, volevo chiudere l'ultima. Volevo dirti che tu andrai a Catanzaro con qualcuno meno dell'infermeria, avrai qualche giocatore in più al centrocampo e ursotto che scalpita. La pletora di giocatori adesso utili per il Catania ti mette in difficoltà o ti aiuta in più nelle scelte? No, è stata in difficoltà quando avevo le scelte forzate. Quando ho l'imbarazzo della scelta vi ho sempre detto che aumenta anche la qualità degli allenamenti, no? Perché quando hai 25 titolari che se la giocano durante la settimana è chiaro che se ne beneficia tutti, ne beneficia la condizione atletica perché i ritmi dell'allenamento vengono più alti, ne beneficia la possibilità rispetto agli altri di avere 5 sostituzioni che potenzialmente per noi possono essere decisive. La possibilità di mettere dentro, togliere un titolare e mettere un titolare. Questo sicuramente non mi ha mai creato nessun tipo di problema, anche perché oggi è facile dirlo, però io ho sempre cercato, questo è il sesto anno che alleno, ho sempre cercato di non perdere mai nessuno per strada, come mia mentalità. Credo sia utile che tutti abbiano il desiderio e intravedano la possibilità di giocare. Non sono un allenatore che allena solo 13 giocatori e gli altri li utilizza solo quando ne ha bisogno. Sono uno che cerco di tenere tutti coinvolti perché secondo me nell'arco di un campionato ci può essere bisogno di tutti prima o poi. Gli giocatori non sono dei taxi che ti utilizzi, monti dove ti pare e scendi dove ti pare. Il calciatore è un essere umano, al di là di tutto è un essere umano, deve dare una prestazione e per dare una prestazione bisogna che sia emotivamente e mentalmente dentro un contesto, perché secondo me, almeno io parlo anche quando ero io calciatore, per fortuna mi è successo poco di essere considerato una seconda scelta e ho avuto la fortuna che mi è successa a fine carriera. Però guardavo i miei compagni che magari non erano coinvolti, che magari si capiva già dal martedì che non avrebbero giocato, guardavo come si allenavano, guardavo come si comportavano anche all'interno di uno spogliatoio. Solitamente quando si capisce tanto prima che non gioco vado subito a cercare un compagno che non gioca neanche lui, si comincia a fare comunella, si comincia a dire ma gioca quello, gioca l'altro, ma l'allenatore cosa fa? Ma tanto tu non lo dici chi gioca fino all'ultimo... Non solo non dico chi gioca prima, ma io mischio durante la settimana, mischio continuamente le carte, perché secondo me è produttivo così e perché noi, come ho detto, probabilmente in questo momento siamo un po' più freschi anche degli altri proprio per questo, perché l'altro giorno guardavo le partite e praticamente ci sono tantissimi giocatori sopra le 20 presenze, da 20 a 27 presenze, quindi secondo me non è un particolare da poco. Grazie.